E' il professore Calogero Carità di intervenire in merito alla situazione che si registra nell'area archeologica di Monte Sant'Angelo denunciandone lo stato di abbandono e di degrado. Se non si interviene periodicamente per la salvaguardia delle domus, nel giro di dieci anni al massimo, di esse non resterà nulla. Questo è il grido d'allarme lanciato dallo storico Licatese. L'importante area archeologica di Monte Sant'Angelo, infatti, afferma il professor Carità, e in assenza di custodi e di una recinzione adeguata, se le domus sono protette dagli agenti atmosferici, da una serie di tettoie che meriterebbero comunque un minimo di manutenzione periodica, non sono affatto protette dai vandali, ma anche dagli escursionisti, scolareschi e visitatori, ai quali è consentito entrare nel perimetro delle antiche abitazioni e quindi calpestarne le pavimentazioni. L'area archeologica e tutte quante le domus a sud e a nord, accessibile 24 ore su 24, sono letteralmente invase da rigogliose erbacce. Gli intonaci delle pareti sono fessurati e cadenti e soggetti anche alla predazione come souvenir da parte dei visitatori. La stabilità dei muretti, divisori, dei vari ambienti è molto precaria. Lo spettacolo è quello di un totale abbandono e di assoluta assenza di cura e manutenzione. Dei tanti cartelli illustrativi collocati all'interno dell'area archeologica, continua carità, ne esistono solo due, uno buttato a terra e l'altro per nulla leggibile. Di tutti gli altri esistono solo i supporti metallici. È una vergogna, tuone il docente, che tanti soldi pubblici siano stati utilizzati per portare alla luce tanti importanti reperti archeologici, per poi lasciare che vengano distrutti. La responsabilità della conservazione della tutela e della salvaguardia dell'area archeologica alicatese in capo alla sopraindentenza ai beni culturali e archeologici di Agrigento, che dà la chiara impressione di essere distratto o comunque disattente e non interessata a questo importante esito archeologico. Proprio per tali ragioni, il professor Calogero Carità ha chiesto che venga predisposto un adeguato programma di periodici interventi di manutenzione e tutela delle domus di Monte Sant'Angelo, ma anche di far ripulire dalle erbacce sia l'area archeologica a sud e a nord di Monte Sant'Angelo che via Santa Maria, di dare precise indicazioni e prescrizioni alle associazioni locali che guidano visitatori e scolaresche nell'area archeologica perché impediscano l'accesso nei vani delle domus, e infine, oltre a una serie di altri interventi, anche di non spendere ulteriori fondi pubblici per altri scavi, se non si ha la capacità di custodire e proteggere i resti archeologici già portati alla luce.